Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Così come il mese di maggio è dedicato alla Madonna, quello di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore. La devozione al Sacro Cuore accompagna la vita spirituale di ogni cattolico e ogni anno, nel mese di giugno, deve essere rinnovata, alimentata, approfondita. Alimentare e approfondire una devozione significa non limitarsi al suo aspetto sentimentale, che pure è importante perché ogni vera devozione nasce dal cuore, ma rifletterà anche con la ragione, sulla sua natura e sul suo significato. Nel caso della devozione al Sacro Cuore ciò può essere fatto, rileggendo tre encicliche dedicate al Sacro Cuore da tre papi. La prima è l'enciclica di Leone XIII, Annum Sacrum, del 25 maggio 1899, in cui il Papa esorta uomini, famiglie e popoli a consacrarsi al Sacro Cuore di Gesù come rimedio ai mali che affliggono l'umanità. Si è andati fuori strada, dice, bisogna ritornare sulla giusta via. Le tenebre hanno oscurato le menti, è necessario dissiparle con lo splendore della verità. La morte ha trionfato, bisogna attaccarsi alla vita, solo così potremo sanare tante ferite, solo allora il diritto potrà riacquistare l'autentica autorità, solo così tornerà a risplendere la pace, cadranno le spade e sfuggiranno di mano le armi. Ma ciò avverrà solo se tutti gli uomini riconosceranno liberamente il potere di Cristo e a Lui si sottometteranno, e ogni lingua proclamerà che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. La seconda enciclica è la Miserentissimus Redemptor di Pio X dell'8 maggio 1928, in cui alla consacrazione al Sacro Cuore con la quale ci offriamo a Dio e diventiamo sacri a Lui, il Papa aggiunge la necessità di atti di espiazione e di riparazione per i peccati commessi da noi e dagli altri. Al debito, dice particolarmente, della riparazione, siamo tenuti da un più potente motivo di giustizia e di amore, di giustizia per espiare l'offesa arrecata a Dio con le nostre colpe e ristabilire con la penitenza l'ordine violato. Questo dovere di espiazione incombe a tutto il genere umano. La terza enciclica è la Aurietis Aquas di Pio XII del 15 maggio 1956, in cui il Papa afferma che non bisogna pensare che il culto del Sacro Cuore sia apparso quasi all'improvviso nella vita della Chiesa, ma le rivelazioni di cui fu favorita Santa Margherita Maria, afferma, non aggiunsero alcuna nuova verità alla dottrina cattolica. La loro importanza consiste in ciò che il Signore, mostrando il suo cuore sacratissimo, in modo straordinario e singolare si degnò di attrarre le menti degli uomini alla contemplazione e alla venerazione dell'amore misericordiosissimo di Dio per il genere umano. Infatti, mediante una così eccezionale manifestazione, Gesù Cristo espressamente e ripetutamente indicò il suo cuore come un simbolo quanto mai adatto a stimolare gli uomini alla conoscenza e alla stima del suo amore ed insieme lo costitui quasi segno di misericordia e di grazia per i bisogni spirituali della Chiesa nei tempi moderni. Papa Francesco, parlando nella Basilica di San Giovanni in Laterano il 2 giugno 2016, ha consigliato ai vescovi e ai preti che lo ascoltavano, di rileggere l'enciclica di Pio XII a Urieti Sacquas. Ricordo, ha detto, che quando è uscita quella enciclica ci fu chi storcendo il naso disse che quella del sacro cuore era una devozione da suore. Invece ci farà bene leggerla, ha aggiunto Papa Francesco, anche se qualcuno dirà è preconciliare. E ciò vale anche per le altre due encicliche di Leone XIII e di Pio XI, che ci farà bene rileggere, anche se qualcuno potrebbe dire che sono preconciliari. Ma dovendo ricordare il culto al sacro cuore, come non associarlo a quello del cuore immacolato di Maria, la creatura che più perfettamente di qualsiasi altra ha compreso e amato il Divino Redentore. La preghiera insegnata dall'Angelo ai tre pastorelli di Fatima nell'autunno del 1916, prima delle apparizioni della Madonna del 13 maggio 1917, dice così Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue e anime di venità di Gesù Cristo, presente in tutti i tapernacoli della terra in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui è offeso. E per i meriti infiniti del sacratissimo cuore di Gesù e per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. È una preghiera profondamente teologica che si apre con un atto di adorazione alla Santissima Trinità, ricordando quello che è il primo mistero del cristianesimo, un solo Dio in tre persone divine. L'atto di adorazione è il più perfetto che ogni cattolico può compiere perché in questo atto si riconosce il proprio nulla e il tutto di Dio, la nostra totale dipendenza da Dio a cui tutto dobbiamo. La preghiera dell'angelo ci invita ad associarci al sacerdote che, rinnovando il sacrificio dell'altare, offre il preziosissimo corpo, sangue, anime e divinità di Gesù Cristo che non è presente solo nel momento della consacrazione eucaristica, ma in tutti i tabernacoli del mondo in cui si conserva l'ostia consacrata, come non vedervi un attualissimo invito all'adorazione eucaristica davanti ai tabernacoli oggi abbandonati e quanto mai offesi da oltraggi, sacrilegi e indifferenze. Profondamente teologica è infine la distinzione tra i meriti infiniti dal Sacratissimo Cuore di Gesù e l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, che però sono inescindibilmente uniti da un unico fuoco di amore. Per questo Pio XII nella Aureatis Aquas scrive affinché il culto verso il Divin Cuore di Gesù porti frutti più copiosi i fedeli si facciano un dovere di associarvi intimamente la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Infatti è sommamente conveniente che, come Dio ha voluto associare indissolubilmente la Beata Vergine Maria a Cristo nel compimento della redenzione, così il popolo cristiano, che ha ricevuto la vita divina da Cristo e da Maria dopo aver tributato i dovuti omaggi al Sacro Cuore di Gesù, presti anche al Cuore Immacolato di Maria con simili ossequi di pietà. Per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù e per l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria chiediamo dunque la conversione dei poveri peccatori, che è la conversione dell'umanità intera, ma è prima di tutto la nostra conversione.